Vi condurrò alla scoperta del Cimitero delle Porte Sante, un cimitero monumentale di Firenze, situato entro il bastione Michelangelesco fortificato della Basilica di San Mignato al Monte. Viene inaugurato nel 1848. Sorge in una posizione privilegiata, la cui vista da qui è magnifica. Il progetto iniziale fu affidato all'architetto Niccolò Matas, e ne ampliato utilizzando l'area della Fortezza Cinquecentesca, che si estendeva intorno alla chiesa e al monastero. Oltre a numerose testimonianze architettoniche di gusto neogotico, eclettico, liberty, deco, il cimitero accoglie le salme di illustri personaggi come Spadolini, Cecchigori, Annigoni, Papini, Collodi, Artusi, diventando negli anni un vero e proprio museo a cielo aperto di scultura. I monumenti più affascinanti sono quelli romantici ottocenteschi, pieni di simboli, figure e ritratti sentimentali. Famoso è il monumento dei fratelli Mazzone, Maria e Maria. Lui morì con Maviere durante la Seconda Guerra Mondiale. Lei un anno dopo, pochi giorni prima delle nozze, la madre le fece ritrarre finalmente riuniti nell'eternità. Lui in uniforme e lei in abito da sposa.